Dunisiani, siamo su Terraria, un magico gioco molto simile a Minecraft, devo dire, ma in 2D! È bellissimo questo gioco, oh mamma mia. Molto bello, molto bello. Ed è notte, qua moriamo, moriamo male ragazzi. Allora, praticamente è un gioco enorme, veramente infinito. È un gioco di avventure, esplorazione, uccisione di boss. È una roba pazzesca e per fortuna si sta facendo giorno anche perché è notte. Allora, Fede, poi Fede non ci ha mai giocato. Io ho giocato poche ore, ma sappiamo tutti bene che su Terraria devi giocare ore, ma proprio migliaia di ore per essere esperto. E io, beh, non ho giocato per niente migliaia di ore. Allora, Fede, con lo spazio magari salti, quindi esci da quel buco, eh? Ok, perfetto. Ok. Molto bene, è arrivato il giorno. Io ho questa cosa che tira cose. Allora, tu vedi che nella barra sopra hai... Eh... Sì. Cosa vuole fare? Allora, nella barra sopra hai tipo l'ascia. Sì, sì. Sì, anche il piccone, esatto. Una spada. Una spada, esatto. Ora, usa l'ascia per rompere l'albero, però devi tipo fare tante volte, tipo continuare così, ta, 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 capito? Non so se hai capito cosa intendo. Allora, praticamente dunisiani, qua potremmo anche andare negli inferi di Terraria, potremmo andare ad esplorare. In questo episodio prima di tutto creeremo la casa, poi magari faremo un'esplorazione generale. Io questo mondo l'avevo già avviato. Diciamo, ci ho giocato già un pochino in questo mondo, ecco, perché magari ho delle cose in più. Ho anche l'armatura di zucca. Mamma mia, bellissimo. Seriamente. Comunque gli alberi si tagliano da giù, Fede. Proprio dalla base. Perché se no altri... Come si fa dalla base, scusami? Posizioni la freccia sulla base, ovviamente. Oh, non si vado a posizionare dalla base. Pensa un po'. Ebbè, ma è molto difficile in effettiva. Eh, beh, sì, sì, sì. Questa cosa non l'avevo capita, io sai. Però vedete che sta arrivando giorno, dunisiani. E praticamente adesso stiamo raccogliendo il legno per fare la cosa. Stai attento a non morire, perché quei topi fanno un po' schifo. Ho notato. Allora, dobbiamo creare la casa per gli abitanti, perché qua a volte arrivano degli abitanti in più. E purtroppo sono un po' cattivelli. Cioè, nel senso, sì, allora, diciamo, i mob che arrivano la notte si arrabbiano, capito? E quindi questa cosa non va bene. Perché poi, dopo, capito, ammazzano i nostri abitanti e non va bene. Invece, scappa, scappa. Meglio se scappi, meglio se scappi, meglio se scappi. L'ammazzo io questo qua, perché è complicatissimo, se no. Allora, ho fatto un po' di fatica anch'io a capire all'inizio come funzionava il combat system. Ma dopo che lo capisci inizialmente, poi dopo diventa abbastanza semplice. Almeno per l'inizio, perché io non ho manco affrontato un boss tunisiani per dire. Cioè, sono proprio all'inizio di Terraia e questo gioco è pienissimo di boss. Infatti, se voi sapete, se voi conoscete questo gioco, per favore, scrivetemi nei commenti, datemi dei consigli, ditemi cosa fare. Perché io qua veramente sono spiazzato, perché è un gioco enorme, vastissimo. E voglio impararlo, però è veramente difficile da imparare. Allora, praticamente, facendo così, no, però questo legno non va bene, scherzavo. Abbiamo bisogno di quest'altro legno. Brava Fede. Vedete, così praticamente si forma un muro più alto. Poi, facendo così, vedete, si fa tutto un muro di questo tipo. Magari dietro faccio anche un altro tipo di muro. Adesso vedrete. Ma lì non mi piace. Sì, io ho già una casetta però. Ok, allora, ecco, vedete, così si mette tutto quanto il muro dietro e si fanno le assi di legno. Ok, stiamo facendo la casa. Stiamo costruendo come su Minecraft, doniziani. Vi piace? Allora, io voglio fare questa prova di questo gioco, perché non so se a tutti potrebbe, se a tutti piace questo gioco. Cioè, potrebbe piacere o non piacere questo gioco. È per quello che dico, magari prima di provare una cosa e poi di dire se è bella oppure no. Anch'io faccio la stessa cosa qua su YouTube per vedere se vi piace oppure no. Non si sa, non si sa. Io non l'ho mai provato a portare terrarea. Magari vi piace, magari no. Stai fermo a non scavar di più, perché adesso dobbiamo mettere il pavimento. Allora, usiamo questa parte qua. Usiamo questo, no, 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 perché poi dopo è troppo in basso. Vedi, dobbiamo farlo, ecco, ho già sbagliato. Togli quel blocco che ho messo in più. Eh, porca miseria. Aspetta, non togliere là. Sono incapace, ok, aiuto, perfetto. Ok, perfetto. Allora, qua metto anche una torcia, tipo qua e qua. Diciamo così, l'abbiamo messo un po' a casa, a casaccio, a casaccio. Allora, qua, cos'è che devo mettere? Perché, tunisiani, guardate che difficile. Mi sembra che prima di tutto dobbiamo fare una porta, però aspettate. Eh, sì. Allora, il tavolo da lavoro. Dov'è che... Ah, ok. Ho il tavolo da lavoro di zucca, che mi ricordo che l'avevo craftato. Poi, con questo tavolo da lavoro, riusciamo a craftare determinate cose, come per esempio la porta, che se la trovo magari sarebbe già un'ottima idea. Perfetto, ci ho trovata. Allora, la crafto e poi magari... Io, Fede, ti droppo queste cose a terra. Scherzavo, non so come fare. Vabbè, ti accontenterai, no? Eh, per forza. Allora, la porta è di tre. Ok. C'è questo tizio che se vedi ci aiuta, però allora, Fede, devi parlare, perché è così. Sì, sì, no, no, no. Eh, ti eri tipo mezza... Che aspetta è successo? Sì, no, perché non so come funzionano le craftiche. Ma ti ho colpito io? Va bene. Sì, mi hai colpito tu. Upsi. Stavo cercando di capire come droppare le cose, però non sono sicura, se devi essere sincera. Eh, un po'... Allora, in effetti manco io so come droppare le cose, però l'importante è... Stavo cercando di darti tipo del legno, però non... Del legno. Allora, in teoria si dà con il tasto sinistro. Sì, 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 sì. Ok, come l'hai... Con T. Con T? Sì. Ok, perfetto, perfetto. Brava, brava. Ok, quindi... Allora. Abbiamo fatto la porta, adesso devo mettere un attimo la sedia e il tavolo per sto tizio qua, perché poi ovviamente lui dice, scusa, ho bisogno della sedia e del tavolo, altrimenti noi due ed unis non andiamo d'accordo, e poi lui non è più felice. Quindi adesso gli faccio il tavolo. Cosa? È la mia spada, è la mia spada. Eh, adesso te la ridò tranquilla. E poi faccio anche la sedia, ok, ho craftato la sedia, mannaggia al tizio che ha bisogno di tante cose. Come faccio a fare... Ah, che fastidio! Ok, ho fatto la sedia, perfetto. Adesso il tizio dovrebbe essere a posto, no? Non è che vuole tante cose. Ok, la spada, eccola qua. Comunque, no, ok, devo premere t. No, 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 io premo t, ma non va. Vabbè. Come non va, scusami? No, l'ho droppata. L'ho droppata? Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Vabbè, a volte purtroppo, Tunisani, può capitare anche di tossire nei video, ma dopo tutto sappiamo che Dunis è molto professional. Allora, il tizio spero che ora sia contento. Perché ho costruito la casa, spero che lui sia tanto contento. Oh, signore, deve venire in casa, se no è un coglio. Insomma, una persona un po', un po' stupido. No, 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 si dice, quando le persone vanno, eh, sì, si deve dire per forza. Ah, però sono molto contento perché andremo, vieni subito con me. Andremo negli inferi, eh. Siete contenti, cosa? Sto andando lentissima, perché? Non ne ho la più palida idea. Ah, ma io vado veloce perché praticamente ho degli stivaletti che mi fanno andare super veloce. Ah, ecco, capisco. Mi sa che è la gianche, mi sa un pochino. Giusto un pochino. Eh, mamma mia. Mi senti laggante, mi senti. No, no, non è che ti sento laggante a voce, ma nel gioco laggi giusto un pochino, Doniziani. Anche voi riusciti a vedere Federica. Vabbè, lasciamolo qua, il signore penso che entrerà in casa, se non entra, sono affari suoi. Adesso vieni un attimo, perché ti devo far vedere quello che ho costruito io. Mi sembra un po' imbecille, però. Ok, perfetto. Aspetta che adesso ammazzo sta rana qua che, mamma mia, che fastidio che danno queste rane, questi topi che vanno in giro. Veramente, chi è che gli dai il permesso? Poi, guardate Doniziani che Terraria è cambiato un sacco nel tempo. È cambiato davvero tantissimo. E adesso ci sono un sacco di giocatori che ci giocano. Mamma mia. Spacco qualcosa, questi robi danno un fastidio assurdo. Porca miseria. Comunque, se vedi, ci sono le zucche. Secondo me è per Halloween, perché io prima non le vedevo queste zucche nel mondo. Ma sicuro che è per Halloween? Eh, esatto. E qua, guarda cosa avevo costruito. Una piccola casetta che in realtà non è una bella casetta, però ci ho messo la fornace, il tavolo. Oh, che carino. Le cose. Eh, sì, sì, sì. E qua, qua c'è la miniera più profonda di... Ah! Ok, perfetto. Stavo giusto cadendo. Scusate. Che pazzo. Può darsi. Qua, se vedete, ho messo la mappa, non so se si vede, vabbè, nel caso come si fa a fare la mappa, non ne ho la più pallida idea. Vabbè, vi accontenterete di questa mappetta qua piccola. Vedete? Qua scende un sacco in basso e anche se vado... Perché praticamente, Fede, tu devi sapere che andando in basso, in basso, in basso, in basso, si trovano gli inferi. Gli inferi più oscuri. Esatto, e là ci sono i boss. Ed sarà uno dei prossimi obiettivi andarci, ok? Ok, ma prima dobbiamo esplorare un po' in superficie. E vediamo un attimo se tu hai una pozione. Devi schiacciare il tasto, Fede. Sì, sì, no, non mi faceva salire. Ah, no, no, infatti. Ok, ok, ok. Ok, perfetto, perfetto. No, stavo per ammazzarti perché se cadevi fino in fondo era la fine. Morrivo. Assolutamente sì. Ok, ho le pozioni di richiamo, quindi non è assolutamente un problema. Quindi, Fede, vieni con me. Allora, dobbiamo capire un attimo in che direzione... Cosa hai fatto adesso, Fede? Cosa hai fatto? C'ho tutto quanto l'inventario aperto, perché? Devi premere ESC, mi sa. Io l'ho impostato con E perché così... Ah, ok. Eh, esatto. Ah, ok, ok. E comunque parla bene perché hai fatto... Aspetta, aspetta. E io ho detto cosa sta dicendo. Ah, una pianta schifosa, come si permette a colpire il Dunis, come osa. C'è un grillo, c'è un grillo, mamma mia. E tu sei un grillo, pensa un po'. Però i grillo sono carini, da... Eh sì, ma assolutamente. Guarda, nella realtà se vedo un grillo urlo come... Non so, come una ragazzina... Ma altro che... Guarda, Gian Giuberto a volte urla, ma lui non è niente in confronto ai miei urli. Allora, no, vabbè, ma... È veloce, spesso. Eh sì, ma se... Eh, ma che lentezza che sei. Eh, mamma mia, ma che lentezza. Ma tu hai stivali e quelle cose, ma che vuoi? È vero questo, in effetti. Qua c'è... Mamma mia. Il platino. Ho io due zucche. Scusa, perché ho ricevuto un achievement niente disoccupati. Si chiama niente disoccupati, vabbè, ok, grazie. Ma? Ah, questo è il deserto. Questo è un bioma molto pericoloso perché ci sono gli avvoltoi schifosi. Però tranquilla che con Dunis vai sicura a 100%. Però la notte direi... Eh sì. La notte però non tanto perché chiaramente... Ah, schifoso, come ti permetti, avvoltoio di... Ma... Oh, no, no, no. Oh, oh, oh. Hai visto? Ma sto cosa brutto. Mamma mia. Sono assolutamente infami. Per fortuna Dunis ha le capacità e anche le pozioni curative. Quindi se ti serve tipo per curarti... Eh, c'ho un cuore in meno, infatti. Vabbè, un cuore in meno è ancora sopportabile, però mannaggia a te. Scappa, allora, quando vedi un avvoltoio scappa, sennò poi dopo io magari ti colpisco. Allora, questa è la giungla, penso. Non ne ho idea. Comunque andiamo ad esplorare ancora di più perché chiaramente dobbiamo esplorare fino in fondo. Ah! Ok, ce l'ho fatta. Aia! Aia! Eh, mamma mia, scappa, 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 scappa. Ti stavo... Come scappa? Fede, scappa, scappa. Mannaggia, perché tu non hai nemmeno l'armatura, capito? Ma poi io, seriamente, sti topi... Madonna, sti conigli, quel che cavolo sono? Che fastidio, che fastidio. Adesso ti droppo, tieni. No, ti ho droppato tutto. No, ok, te ne ho dato uno. Vieni, sali su e poi sali qua. Come salgo, scusami. Ok, l'hai presa adesso prima. Ma quanto è imbecille, dunisiani? Non so come funzionano. Dunisiani, eccoci qua. C'è stato un piccolo problema tecnico, ma adesso ci siamo. Fede non riusciva a saltare, purtroppo, ahimè. No, no, questo slime è schifoso. Proprio come... Mamma mia, che schifo. Eh? Ma cos'è, ma c'è l'uccello? Ma infatti... Che colpisce, scusami. Ok, tu non puoi più usare la pozione della curazione. Vatti, scappa, 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 se no ti ammazza, Fede. Hai. Oh, Maria, ma perché? Perché mi accompagno con sta gente lunisiani? Perché? Perché? Cioè, venite voi a sostituirli, non lo so. Credo che sono morta. Credi, ma... Io proprio non l'avrei mai detto. No, madonna, sono morta. Fede, ti devo dire una cosa. Sì. Ho trovato la borsa d'erba. Scusami. Ah, capisco. Eh, vabbè. Questa è una cosa bella da... Questa conservala che poi... Fede! Scusami. Come fai a sapere? No, ci decoriamo, ci decoriamo l'erba. Il giardino, dici? Con l'erba. È certo. È certo. Eh, scusa. Cosa vorresti usarla, l'erba, scusami? Che cosa intendevi? Ma no, no, no. Fammi capire cosa intendevi tu? Ma, boh, non lo so. Comunque riesci... C'è l'uccello brutto, c'è l'uccello brutto, no? Ma riesci a ritornare? Ok, io ti vedo. Aspetta che ti raggiungo indietro, perché qua ho trovato una cosa di un isegno pazzesca. L'ammazzo col piccone, lo ammazzo. Restate con me che adesso, porca miseria, adesso ammazziamo tutti. Veloce, veloce. Scappa, scappa. Non farti prendere, perché poi gli uccelli sono schifosi, capito? No, ma c'è pure il figlio. Sta morendo. Ma stiamo scherzando. Ok, scappa, scappa, scappa. Ci sei, ci sei, ci sei, tranquilla. Ok, perfetto. No, 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 no. Mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza. Scappa, tieni la pozione di curazione, tieni la pozione di curativa, tienila, adesso. Ah, è tua sorella, tua sorella, tua sorella. No, 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 mi sta facendo. Allora. Ma cos'è? No, vabbè. Abbiamo bisogno, allora, io adesso mi metto un attimo ad esplorare questa parte. Abbiamo bisogno di pozioni. È stato scuartato brutalmente, mamma mia. Assolutamente sì, ma abbiamo bisogno di pozioni, non di pozioni, scherzavo, ma di cose. Ma come mi faccio un'arma migliore, scusami? Dove sono le mie pozioni curative? No, dove sono le mie pozioni curative? Ecco, spero che siano qua, vero? Perché ne ho solo sette? Allora, questa cosa non è assolutamente valida, eh. Poi mi arrabbio, Dunisiani, io. Eh, non è valida. È stato brutalmente, eh. Ma perché ho preso la... No, 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 Dunisiani, poi io non sto capendo niente. Dove sono finite le mie pozioni curative? Io ne ho solo una. Perché ne ho solo una? Dove le ho droppate tutte? Sono stupido, forse può darsi. Le ha dato tutte a me le date. Quante ne hai? Se hai fatto, quindici ne ho. Ah, ecco, vabbè, allora almeno tienile. L'importante è questo, perché poi dopo... Poi a casa ce ne sono tipo molte altre, tipo là nella miniera. Io qua esploro questa grotta, Dunisiani, molto bella. Peccato che Fede non ci sia e non può vederla. Perché... Mi sto cercando di fare almeno un'arma decente. Ok, fatti un'arma decente, fatti se riesce anche un'armatura, se sai come fare. Sì, quella là di zucca, credo, posso farmi. Ok, brava, fatti quella. Oh no, qua c'è un demone della notte. Porca miseria. Allora, vediamo, no, io qua senza pozioni di curazione, curative ci muoio, ma poi perché dico pozioni di curazione? Che razza... Questo non è italiano. Ok, aspetta che mi chiudo. Io qua ho visto dell'oro, mi pare, Dunisiani. È una roba pazzesca. C'è l'infinito, c'è un mostro bruttissimo fuori casa, è pieno. Come c'è un mostro? Allora, attenta. C'è un occhio, c'è un occhio che sta volando. Esatto, quello si chiama demone, praticamente è veramente terribile quello là. È molto brutto, devo dire. Infatti, anche perché si chiama demone. Qua ci sono le corde, giusto? Perché io in teoria qua nell'inventario dovrei avere delle corde che poi praticamente messe giuste mi potrebbero aiutare a prendere l'oro. Cioè, almeno spero sia oro questo, poi non so, caspita, se sto dicendo giusto oppure no. Dio. Però va tutto bene, Fede. Allora, non parlare basso. No, 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 dico, c'è il mondo, c'è praticamente il mondo. C'è il mondo. Cioè, tu non so quanti mostri ci stanno. Ok. Mamma mia. È normale perché è notte, quindi prova, non so, prova. No, questo è latta, ma che schifo. Vabbè, prova a sopravvivere, io magari ti raggiungo in un momento. Solo che è una roba impossibile praticamente, Donitiani, perché qua è pieno di mostri. Perché è notte. Fede, stai parlando di nuovo, basta. Che caspita, sono questi borbottini. Ma sei in un video, ma ti ricordo? Sto cercando. No, no, sì, sì, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo. Ok, perfetto. Parla bene, allora. Quindi, tutto bene da te? Sì, vero. Sì, sono tantissimi mostri. Ci sta anche l'altro tizio qua che sta tutto quanto impaurito, mamma mia. Ok. Non vuole uscire. Ah! 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 È anche tutto a posto? Assolutamente no, assolutamente no. No, vabbè. Non morire, ti prego, non morire. Cos'è quel suono? Cos'è quel suono? Cos'è quel suono? Sembrava cos'è molto brutto, ti devo dire la verità, dai. Me ne sono accorto. Chiedo, chiedo, perdono, signor YouTube. Ti chiedo cos... Sembrava una cosa molto, molto brutta, devo dire. Allora, no, non pensare male. Io qua sto morendo, mi rimaneva un cuore, se non prendevo la pozione curativa, era la fine per me. E tu che mi hai rubato le mie pozioni curative. Io ti ho rubato cosa? Ma se tu sei tutto quanto ingallato che me le lanci a me, ma scusatemi, ma... Cosa caspita vuol dire? Questo è un tuo termine della vecchiaia, per caso. Certo, certo. Può darsi. Mi stai dicendo che sono vecchia, scusami. Ma no, affatto, ti pare io che ti dico una cosa di questo tipo? Non l'ho mai detto e mai lo userò dirlo. No, 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 sono entrati, sono entrati. Questo è scemo, è scemo, è scemo, è scemo. Spera, attenta, attenta, che là è la fine dopo, lo sai vero? Oh no, ho mezzo cuore, ho mezzo cuore, questo è tutto scemo, è tutto scemo. Ma perché quello ha aperto la porta? Sta proprio questo, eh, ma proprio questo. Con questo ritmo qua. La porta, è tutto scemo. Attenta, attenta, non è che hai aperto la porta, ti sei avvicinato alla porta, quindi ti sei aperto, che è diverso forse. No, io ero ferma, io ero ferma. E ferma, allora può darsi che esistano anche... Stavo facendo l'armatura. Mi dispiace molto, comunque parliamo della mia avventura in questo momento. Purtroppo io sono relegato in questo posto, perché Fede purtroppo mi ha bellamente abbandonato, ma vabbè ormai... Ma si è rotta la porta, non si chiude. Come si è rotta la porta? Non si chiude più la porta. Non importa, non parlare di queste cose, che non mi interessa niente, veramente, cioè, chi ti caga, veramente, Fede, guarda... Come? Non ti interessa di me? No, io piango, io piango, non gli interessa di me. Sì, perché non siamo più amici ormai, perché da quando mi hai abbandonato, ciao proprio. Io ti ho abbandonato, ma sto pezzendo. Che bello, sì, perché sei morta, cioè, è colpa tua. Vabbè, la smettiamola, sennò poi qua pensano che io stiamo litigando veramente, ci stanno dicendo... Scherziamo ovviamente i tunisiani, eh, non è che adesso ci ammazziamo per davvero. Perché ci sono gli occhi volanti? Ma che schifo proprio, ma che schifo. Questo è il signor Terraria che si inventa cose molto belle. Però, devo dire, è un gioco veramente bello se lo giocate. Oh, ma che è? Ditemi anche se è bello, se lo guardate. Ah, Fede, sei morta? No, non ancora, ma questo continua ad aprire le porte, ma stai scherzando? E allora fai in silenzio, urla in silenzio, soffre in silenzio, non so cosa ti devo dire. Blocco di fango, ma perché un blocco di fango qua? Cioè, io sono completamente sciocco basito dal blocco di fango. Cioè, non... boh, tunisiani, cioè, fatemi sapere. Prendo un po' di legno perché chiaramente mi sa... Questo è il legno della giungla, mi pare, se non sbaglio. Se è tunisodonera. Non ho più spazio. Vabbè. No, vabbè. Mi ha buttato giù. No, 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 qua. Ok. Facciamo che magari, tunisiani, ritorniamo di là. Ritorniamo di là, vediamo un attimo come sta messa a Fede e poi chiudiamo le... Eh, qua è pieno di roba. È pieno di roba. No. Un sito con una maschera brutta, zombie, c'è uno zombie. Sai che secondo me non riuscirò proprio a ritornare. E questo è il punto della situa. Allora, adesso prendo una pozione di velocità. Cosa ridi con quella risata tipo di Decon Giulio? Cioè, scusami. Cioè, cos'è? No, Maria delle Rose. Cioè, che problemi... No, tunisiani qua, io mi sto preoccupando, eh. C'è tanti problemi. Io ho tanti problemi, mamma mia. Tanti problemi. Eh, beh. Ah! Sono morto! Ah, sono morto! No, sono stato sbudellato. Ho preso... Ho perso 41 d'argento e 5 di rame. Eh... Poverino. Un affronto alla mia ricchezza! Tunisiani qua mi ammazza un mio... Ma porca miseria. Ma tu non capisci cosa c'è qua. Ma dove... Sei entrata... No, Fede, ma sei entrata. Siamo in casa, noi siamo, secondo te. Ok, vabbè, allora, l'importante... Ah! Ok, perfetto. Stiamo tranquillamente. Sono rilegati qua dentro. Beh, eh... Devo dire che è una bella situazione, tunisiani. Porca miseria. È una cosa molto bella da... Da vedere, da fare. Infatti... Come hanno fatto... È la... È niente, è niente. Ok, abbiamo fatto la strage, devo dire, per fortuna. Meno male. Meno siamo sopravvissuti. Esatto, almeno quello. Pensavo di morire di nuovo, ma invece no. Sura io, da essere sincera. Dunisiani, se volete vedere altri di questi episodi, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e... Lasciate i like, iscrivetevi, soprattutto a questo canale bellissimo di Dunis. Mamma mia! E spero di poter iniziare questa nuova avventura su Terraria con voi. Faremo anche magari delle modalità che ci inventeremo. Man mano, giocando, però l'inizio per ora è Terraria classico. Poi vedremo se possiamo fare qualcosa. Poi vedremo appena impariamo qualcosa. Esatto, perché purtroppo stiamo completamente incapaci di Terraria. Però molto bello. Fede, Fede, ti piace come gioco? No, devo essere sincera, a me mi piace. Io ho giocato a giochi del genere, quindi mi piace il modo in cui è fatto. Però la confusione mia penso si sia vista, perché tipo il silenzio, mentre cercavo di capire le cose, è come proprio una boomer. Guarda, io ti dirò, la tua confusione è assolutamente comprensibile, perché questo gioco è impossibile. Chi è sto qua, scusami? Ma che è quello? Ma scusami, cos'è questo? Scusami, io devo capire prima di... Vabbè, non so cos'è, poi questo è un regalo a sorpresa, vabbè, ok. Luniseni, magari lo vedremo nel prossimo episodio, intanto noi ci vediamo. Niente, fate quello che vi ho detto. E ciao! Ciao!